Scusatemi, parlo piano perché mi sono nascosto in bagno per fare questo video, non volevo farmi sentire dai miei figli che sono di là, perché la verità è che non ce la faccio più, vorrei uscire, vorrei andare a ballare, vorrei andare a mangiare la pizza alla faccia dei francesi, ma vorrei andare a un concerto, a teatro, a cinema, a vedere la partita, a fare tutto quello che facevo prima, ma non posso uscire, non posso andarci, perché potrei solo che dare cattivo esempio in questo momento, allora vengo qui e mi sfogo in bagno, ballo un po' ogni tanto, guardo gli impressionisti, recito cose teatrali le più diverse dal classico al moderno e canto, perché ti amo, ho ancora il suono di Sanremo nelle orecchie e tutto questo per sentirmi vivo, ma non dargliela vinta al coronavirus, quindi sto a casa, rimango a casa con loro e l'altro giorno ho guardato anche il film dei Pokémon insieme a loro, è stato bellissimo, ma resistere, 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 tanto finirà bene, lo sappiamo.